la parola può essere un mezzo privilegiato di comunione e di comunicazione ma a volte risulta ambigua e noi cerchiamo di capirlo anche perché la liturgia di oggi proprio su questo si sofferma ben trovato padre Ernesto buona Pasqua della settimana buona Pasqua della settimana a tutti quanti voi oggi siamo per la terza settimana consecutiva all'interno del discorso della pianura che è l'equivalente del discorso della montagna in Matteo certamente quello di Luca è molto più stringato, molto anche più forte su certe parti siamo proprio all'interno nella parte finale i versetti 39-45 domenica scorsa Gesù ci ha dato il criterio di essere misericordiosi come il padre oggi Gesù ci rivela parole ancora più significative non solo sull'amore fraterno come ci ha detto domenica scorsa invitandoci a spezzare le catene di violenza perché soprattutto amare vuol dire marcare la nostra identità quindi quanto si amano i fratelli cresce la nostra identità evangelica perché noi con il battesimo abbiamo ricevuto intorno allo spirito è lo spirito che dentro di noi ci rende capaci di amare come Dio perché lo spirito è l'amore lo spirito c'è da costruire la vita di comunità ma la vita di comunità si poggia sul concreto lo dice anche Matteo al capitolo 18 sul perdono essere un dono per l'altro e nel dare con generosità questa verità che il Vangelo ci offre oggi la pagina del Vangelo ci invita a gettare lo sguardo sul padre proprio per orientare i nostri rapporti fraterni diventare ogni giorno di più veri discepoli del regno ecco perché Gesù oggi ci esorta a non giudicare per non metterci a rischio soprattutto giudicare comporta che uno senza volerlo si mette al posto di Dio presume di conoscere a fondo il cuore del fratello noi dovremmo esaminare le situazioni non giudicarle allora la misura con cui giudichiamo ci ricorda Gesù sarà la stessa misura usata a noi nel giudizio finale quindi davvero molto importante commerciante riempie la misura poi la sbatte diciamo domenica scorsa perché faccia spazio per mettere ancora altro grano fino a quando tracima l'immagine che abbiamo visto domenica scorsa viene eseguita poi da questa piccola parabola che c'è all'inizio del testo di oggi proprio al versetto 39 la parabola del cieco che cosa vuol dire l'evangelista chi è questo cieco dice così il testo può forse un cieco guidare un altro cieco non cadranno tutti e due in un fosso un discepolo non è più del maestro ma ognuno che sia ben preparato sarà come il maestro chi è questo cieco evidentemente luca intende parlare alla sua comunità e anche a noi oggi no per fare un richiamo vigoroso a non pensarci mai migliore degli altri il salmo i primi salmi salmo 1 il salmo il salmo 2 il salmo 131 ci dichiara che l'orgoglioso guarda con gli occhi dall'alto in basso lo diciamo anche noi nelle nostre lingue spesso si corre il rischio di sentirsi migliori degli altri noi non dobbiamo farlo assolutamente spesso possiamo crederci maestri ma in realtà siamo falsi pretestuosi orgogliosi noi non possiamo mai sostituirci all'unico maestro che è gesù evidentemente luca vuole dire ai responsabili della comunità e quindi anche a noi oggi di non essere ciechi non si può guidare un cieco se si è ciechi ma già nel capitolo 5 quando qualche settimana fa abbiamo commentato quella parolina greca zogron prendete vivi gli uomini rendeteli vivi ma se noi non siamo vivi come facciamo a vivificare gli altri se noi non vediamo siamo ciechi come facciamo a guidare gli altri evidentemente qui l'evangelista vuole farci capire attraverso le parole di gesù rivolgendosi a tutti i credenti che noi non dobbiamo aprirci a giudizio ma all'accompagnamento delle persone solo dio conosce il profondo del cuore degli uomini nessuno può sostituirsi a lui o ergersi a persone irreprensibile senza passare al vaglio di se stessa spesso le persone molto severe quelle che sono arcigne con gli altri evidentemente nascondono grossi difetti quindi bisogna sempre stare attenti a che arcigno a chi è superbo a chi fa veramente correzione in un modo violento sotto nasconde davvero grosse cose c'è degli scheletri negli armari diciamo noi per cui se uno è cieco non si rende conto cioè del proprio errore come può aiutare un fratello è un invito direi molto forte da parte di gesù oggi a lavorare su se stessi se noi vogliamo cambiare gli altri dobbiamo lavorare su noi stessi dobbiamo prepararci come ha fatto sempre gesù dobbiamo essere fedeli a quello stile perché gesù non è venuto a giudicare ma a salvare proprio quelli che erano perduti abbiamo proprio nel suo vangelo zaccheo levi le persone la prostituta gesù è venuto proprio per i perduti per quelle che si sono allontanati per cui siamo invitati oggi a non pensare che il nostro giudizio sia certamente vero noi crediamo dice il vangelo di vedere la pagliuzza nell'occhio del fratello la cosa minima il granello di polvere e poi l'immagine molto forte non ci accorgiamo che abbiamo una trave nel nostro occhio è il rischio di essere ipocriti di essere falsi noi non ci preoccupiamo della nostra conversione che è cambiamento di mentalità dobbiamo riconoscere le nostre fragilità accogliendo le e soprattutto lavorando su queste su queste nostre fragilità il limite è un trampolino di lancio per migliorarci san francesco lo citavamo anche domenica scorsa esortava a vedere nel peccato del fratello il proprio in questo modo anche il peccato del fratello può aiutarmi a crescere diceva santignazio di antiochia è meglio essere cristiano senza dirlo che proclamarlo senza esserlo e qui francesco d'assisi lo diceva spesso basta la nostra vita a raccontare chi siamo l'ultima parte di questo vangelo di oggi meraviglioso è la parabola dell'albero buono un albero buono non può portare frutti cattivi ogni albero produce un frutto che gli è proprio in israele erano squisiti i fichi dolcissimi l'uva meravigliosa ma non crescono i fichi e l'uva sui cespugli spinoso sui rovi che vuole dire gesù il frutto in realtà rappresenta l'agire delle persone quindi il frutto rivela l'interiorità della persona che opera mentre il male viene fuori da un cuore cattivo quindi il bene fuoriesce da un cuore buono un albero buono porta frutti buoni quindi nelle opere nelle parole ognuno di noi svela la propria identità dimmi come vivi e ti dico come pensi ecco perché in prima re al capitolo 3 terzo versetto 9 salomone quando il signore gli vuole dare un premio gli chiede signore dammi un cuore che ascolti lev shomea cioè un cuore che sia davvero accogliente alla tua parola e che si lasci modellare è così che il cuore diventando buono porta frutti buoni direi che oggi questa è la preghiera che dobbiamo chiedere al signore rendi il nostro cuore un cuore che ascolti un cuore che opera un cuore squisito che segua lo stile mite umile di gesù di natale questo è il concetto che viene ribadito oggi e che nell'evangelo di luca ci accompagnerà per tutto quest'anno liturgico giusto certo direi che questo lo stile luca è chiamato proprio l'evangelista della misericordia l'evangelista della povertà della preghiera le caratteristiche luca di gesù sono veramente splendide è un gesù mite che prega continuamente lo dicevamo due domeniche fa è un gesù che è sempre in rapporto con il padre è un gesù convinto di quello che vive direi con una identità forte ma di una forza che non schiaccia gli altri ma illumina gli altri dal suo cuore dai suoi occhi dai suoi gesti alle sue parole tracima un amore meraviglioso che non è bonismo è attenzione ma che è incontro con una persona per portargli fuori il meglio che ha direi che questa è l'evangelizzazione avvicinare gli uomini portando fuori quell'immagine di dio che ognuno di loro ha anche forse il peggiore quindi la logica di cui parlava anche manzoni i promessi sposi non deve essere come fra cristofalo quindi davvero quest'uomo forte che pensa ai fratelli e che porta fuori dal cuore dell'uomo quello che il signore ci mette dentro noi siamo chiamati ad accompagnare gli uomini non aggiudicarli siamo un po sulla via tutti quanti nella stessa barca dobbiamo aiutarci gli uni gli altri perché il vangelo è una chiamata a una comunità e nella comunità come nella famiglia bisogna aiutarsi se un membro soffre tutte le membra soffrono quindi dobbiamo davvero imparare anche con la correzione fraterna con la preghiera con l'accompagnamento direi dobbiamo aiutarci a migliorare perché quando una persona migliora è come una luce che si accende è come un'acqua pura che ci disseta quando il fratello migliora la propria vita noi dobbiamo esultare perché tutta la famiglia veramente riceve luce e grazia questo è davvero lo stile della comunità cristiana bene sappiamo cosa fare vediamo di metterlo in pratica grazie padre ernesto grazie a voi buona pasqua della settimana salome salome Grazie a tutti.